Noi da quando abbiamo iniziato Over The Line facciamo presentare gli ospiti, non li presentiamo noi. Professor Giovanni come prima cosa ti chiediamo di presentarti. Mi chiamo Giovanni Poggiali, sono nato a Firenze nel 1971 da una famiglia ravegnana, Giuseppe e Paolo, primo di tre fratelli, una famiglia che viene dall'impresa da diverse generazioni, segherie e poi terminal portuali sul porto di Ravenna e soprattutto per quello che riguarda me la viticoltura, nel senso che il mio nonno che nel 1966 aveva acquistato un'azienda nei Chianti Classico vicino a Siena me ne ha poi fatto innamorare praticamente. Quindi quando ho avuto 18 anni dopo il liceo scientifico ho deciso di iscrivermi a Legge a Siena e il secondo passo è stato quello di andare a iscrivermi al curso Siena Rugby con il libretto di iscrizione universitaria e poi di cominciare a studiare, a seguire gli insegnamenti universitari di legge e contemporaneamente occuparmi dell'azienda Vinicola Chianti Classico denominazione di origine, San Giovese, vitigno centro-italico, romagnolo e toscano. Dopo sei mesi sono andato a mio padre e gli ho detto qua se non vogliamo buttare via i soldi io lascerei la facoltà di legge per dedicarmi alla viticoltura e lui mi ha detto un po' mi dispiace ma siccome sei maggiorenne non ti posso impedire e quindi d'accordo così. Lì avevo trovato uno zio che già si occupava una storia simile, aveva sposato la sorella più piccola di mio padre conosciuti nei 68 a Firenze, lui professore di lettere e filosofia, le aveva fatto un po' di studi di medicina e lui non aveva una cattedra e mio nonno allora gli chiese senti intanto che aspetti la cattedra vivete a Firenze con mia figlia perché non provi a occuparti dell'azienda Vinicola e lui ha messo questa carica umanistica dentro al discorso del vino negli anni della rivoluzione del vino italiano e questo ha fatto sì che io ho avuto la fortuna incredibile di trovarmi al lavoro già avviato nella qualità quando c'erano 10 aziende in Piemonte e 10 in Toscana a crederci veramente e quindi dai 18 ai 28 anni ho fatto un mestiere bellissimo in una situazione privilegiata e non potrò mai restituire tutto quello che ho avuto in quegli anni lì. Contemporaneamente ho sviluppato un po' di pensieri attorno allo sport, all'associazionismo anche culturale nella Romagna eccetera e questo mi ha portato poi a concepire l'idea del Romagna rugby cioè di fare progredire il rugby in Romagna tramite le povertà della Romagna regglistica di allora quindi i campanili c'erano ma bassissimi tutti di bassissimo livello qualcuno ha detto ma proviamo a seguire quello che mi racconta questo ragazzino perché avevo 27-28 anni e lì è cominciato comunque il progetto del rugby quello che mi ha portato fino a qui oggi. per quanto riguarda la mia vita se può essere interessante sapere che sono sposato da 11 anni ho tre bambini, Eugenia di 10, Rachele di 8 e Sebastiano di 6 e mezzo, c'è anche una moglie che si chiama Francesca che va citata evidentemente, senza di lei non avrei fatto nulla. La tua passione per il rugby è nata appunto in quegli anni, 18 anni o molto prima? La mia passione per il rugby è nata molto prima, io ero un ragazzino molto timido, sono stato e lo stavo attento a quello che girava in televisione, la mia storia è abbastanza classica, giocavo coi soldatini sotto il tavolo, ascoltavo dagli attentati delle Brigate Rosse a quel che girava alle 3 del pomeriggio in televisione e mi capitò anche di sentire la classica, classicissima, telecronica dell'allora cinque nazioni, championship, commentato da Rosi, un episodio che in tanti hanno nella memoria e questo mi ha un po' influenzato, mi ha fatto in qualche maniera conoscere uno sport esotico, dico io, perché è un po' così. Questa cosa qui è fiorita, ha potuto rifiorire soltanto quando a 14 anni sono stato mandato con mio fratello e un paio di cugini in un college poco fuori Londra, by college, che faceva corsi estivi per continentali, soprattutto, ma anche per asiatici o ragazzi di ogni dove, e lì un pomeriggio un professore irlandese venne con questa bislunga in mano e disse questa qui voi continentali non sapete nemmeno che cos'è, io lo sapevo, naturalmente da introverso sono stato zitto, dopo un'ora di gioco però mi sono proprio definitivamente innamorato dello sport, proprio a pelle. Allora ti chiedo, hai mai giocato a rugby? Sì, è una domandaccia perché purtroppo non l'ho giocato tanto quanto avrei voluto, nel senso che a Ravenna non c'era il rugby, c'era stata prima di me una squadra per una decina d'anni circa, a cavallo dei 70 e gli 80, negli anni in cui un po' sono nate tante realtà in Italia, poi era scomparsa quindi quando io ero ragazzino non c'era il rugby e dunque non l'ho potuto giocare, ripeto come vi ho detto prima, la prima cosa che ho fatto dopo essermi iscritto 18 anni a rugby, sapendo che a Siena c'era la squadra di rugby, peraltro la squadra universitaria è appena fondata da pochissimo, era in 1990, mi sono iscritto subito e lì quel po' che ho giocato decentemente l'ho giocato lì, quindi il mio vissuto rugby non è enorme sul campo, però è quello che basta per averne introiettato credo lo spirito, almeno la parte dello spirito rugby che a me piace. Tornando ai tuoi 14 anni, oggi un ragazzino di 14 anni che va in Inghilterra per un'esperienza anche di studio è quasi una cosa normale, lo fanno più o meno quasi tutti, quando l'hai fatto tu, che erano periodi un po' più difficili anche per muoversi, cosa ha voluto dire per te e soprattutto quando hai scoperto il rugby, giocare il rugby là, cosa ha voluto dire per un ragazzino di 14 anni? Allora, per un introverso e però con tante suggestioni e forse un po' troppa fantasia nella testa tantissime cose, per me è stata un po' un'esplosione di faccenda, l'ho scritto credo anche nella prefazione un libro qui quando è rinato in Ravenna, anche la squadra Old, ho scritto due righe su questo ed è proprio, lì ho abbinato una serie di passioni, lo studio della storia, perché dovete sapere che poi avendo lasciato legge, essendo solidamente dentro al vino, avendo già fatto 3-4 vendemmie e quindi già sentendomi viticoltore anche a 25 anni, poi mi sono iscritto di nuovo, ho cambiato facoltà e mi sono iscritto in storia medievale, che è un'altra grande passione che ho, a Siene essendo una città medievale, aveva poi delle lezioni bellissime anche di professori che venivano dall'estero. Allora a Londra quando un ragazzino vede gli stemmi, le bandiere, i soldati, i colori dei pub, tutte quelle robe lì, le maglie da rugby in Carnaby Street, credo ne ho speso tutti i miei soldi, che pochi mi era stato affidato dal mio padre, l'ho speso tutte in maglie da rugby, una cosa meravigliosa, stavo dentro questo negozietto e sono passato delle ore a toccarle, a guardarle, a vedere, poi allora erano ancora più belle, perché erano prive di sponsor, il cotone, l'alcolletto, insomma tutte cose che molti di noi hanno vissuto e che non ci sono più, perché non ci sono più, è un'altra cosa, ci sono delle altre cose, non c'è quel passaggio tra il vecchio mondo e il nuovo dico io, perché sono stati quegli anni lì poi, e quindi una grandissima suggestione, ecco, veramente una grande suggestione. Grazie a tutti.